A pochi giorni dall'ufficializzazione della Società Unica dei Trasporti, quella che unisce in via definitiva Arpa, GTM e San Gritana, si muovono le prime polemiche. Per inciso a rilasciare dichiarazioni contro l'unificazione è stato il rappresentante massimo della Baltur, società di autoline. È lui a dichiarare il rischio di monopolio a favore della regione Abruzzo. Voglio rassicurare la Baltur che noi faremo le gare e siamo anche interessati alla presenza dei privati in questa compagine societaria. Apertura di investimenti privati, spiega il presidente della regione. Da un lato si palesava il rischio di fallimento, dall'altro quello di svendere le quote a una cifra irrisoria. Riprese le redini del comando, ora si procederà agli investimenti privati. Noi abbiamo idee liberali e una grande idea della libertà, soprattutto sul piano economico. Per cui non solo rassicuro e rassereno, ma faremo un innalzamento insieme soggetti pubblici e soggetti privati dalla qualità e dalla quantità del servizio del trasporto.